Nel pomeriggio di oggi i carabellini del nucleo operativo ecologico hanno posto sotto sequestro una parte del compendio ex-Argentina, il gigantesco complesso immobiliare costruito negli anni scorsi subito sopra il Parco Orciducale di Arco e che nel recente passato ha sollevato roventi polemiche per la sua stessa realizzazione e per le sue volumetrie. La Procura di Rovereto, che da tempo indaga sulle regolarità del complesso ITER che hanno portato alle autorizzazioni necessarie alla nuova costruzione, ha disposto il sequestro di una ventina di appartamenti interni all'edificio, quelli non ancora abitati. La notizia e le conseguenze giudiziarie che potrebbe avere è di quelle che farà sicuramente molto discutere ad Arco e in tutto il Basso Sarca, anche perché tra gli indagati c'è sicuramente l'attuale vicesindaco autonomista Stefano Bresciani, presidente della Commissione Comunale che nel 2008 aveva dato il via libera al progetto edificatorio. Grazie.